Cosa sarebbe successo se tu non gli avessi praticato in una statica arbiaco? Penso che l'esito sarebbe stato tragico, se non fatale, per il signore in questione. Quindi penso che gli sia andata bene. Perché non si sarebbe ripreso? No, no. Tant'è che finché sono stato lì non l'ha mai ripreso conoscenza. Durante le manovre di rianimazione ha emesso un paio di volte un paio di rantoli. Ho visto che la rima orale si stava deviando verso la destra che era segno che stava cominciando a esserci un danno neurologico. Però poi così.